Lorenzo Romaforte, in porta! Alla profondità Varamo, Savag! Sbaglia Meteo, riparte la Lazio, due contro uno, corre Varamo, solo Savag. Varamo in area, destro! 3 a 0! Qui alla centro campo si rischia di arrivare in porta, qui parte Savag, la serpentina, Varamo! Fisca la pietra. Chalet! Dentro Mirko, va fuori giuntale, Crispo. Controllo, Crispo! Sta bene in questo meno due, metto in tanto la spizza. Palla verso Fiusca! Fischia, 3 volte, l'arbitro, il Napoli è in finale, raggiunge la Juventus al termine di una partita completamente folle.